Abbiamo voluto chiamare la proposta acqua del sindaco utilizzando quella frase che in tempo passato specificava l'acqua delle fontane pubbliche. Chiediamo all'amministrazione comunale che si faccia carico di collocare in alcune delle nostre piazze delle fontane pubbliche di erogazione di acqua naturale e frizzante. Lo rende pubblico attraverso una lettera il gruppo di minoranza consigliare Gente in Comune di Alzano Lombardo, motivando la richiesta in quanto aiuto concreto alla spesa delle famiglie sempre più in difficoltà. Diverso il parere di Roberto Anelli, primo cittadino di Alzano, che pur riconoscendo la difficile situazione economica che investe molte famiglie, manifesta il suo disappunto ritenendo fondamentali altre priorità, in ragione del fatto che l'acqua della località è di qualità più che buona. L'acqua del sindaco è già l'acqua che tutti i cittadini hanno nelle proprie case, per cui ritengo che la proposta venuta da Gente in Comune in questo momento sia fuori luogo. C'è da poi differenziare, fare una differenziazione sostanziale, come giustamente qualcuno diceva, i distributori del latte sono distributori che peraltro sono stati pagati dagli agricoltori o dall'agricoltore che ha deciso di mettere. Non vedo perché noi dovremmo caricarci di spese, poi in un momento particolare come questo, e questo dimostra ancora una volta come gente in comune, proprio di in comune non ci sia, dovremmo caricarci di spese inutili quando la cittadinanza, peraltro di Alzano, ha un'acqua pulitissima e molto molto buona. Il cittadino, aggiunge la minoranza, potrebbe usufruire dell'acqua sempre fresca, non utilizzando più il supermercato, evitando di trasportare bottiglie pesanti, consumando sacchi interi di bottiglie in plastica e soprattutto, in base alle scelte dell'amministrazione, potrebbe avere acqua gratis o a pochissimi centesimi al litro, entro i 10 centesimi per quella frizzante. Posso capire che un discorso di questo tipo possa andare bene nei centri turistici, che è un servizio in più dato al turista, onestamente in Alzano, in questo momento che stiamo attenti a spendere i 100 euro, non lo riteniamo fattibile.